Yeah! Benvenuti a Wild, oltre Shagura. Siamo qui nella natura più selvaggia. Ci troviamo qui su questo bolide. E stiamo per arrivare nella tribù di Rakarura. Una tribù recentemente ritrovata. Incontreremo le rustiche rovine della tribù di Rakarura. Qui a Wild, oltre Shagura, con fiammette a scalogna e il mio amico... Berchitta. Siamo ancora al confine. Ora ci addentreremo. Gli esploratori ce n'ho raccomandato di farci scortappare da 33 trentini. Ma noi adoriamo il regno. La natura selvaggia non offre certamente un riparo a 5 stelle, perciò è consigliato costruire un rifugio per la notte, con due ossa e un bastone, o se siete sprovvisti di tenda come la mia collega a fiammette lì in fondo, vedremo ora come costruire appunto il riparo di ossa e di bastoni. Se non siete capaci di fare questa operazione, allora prendete la semplice tenda che si può lanciare in aria e si apre automaticamente. Automaticamente. Automaticamente.